Princip è un paradiso magnifico con spiagge incontaminate, foreste verdeggianti e una piccola popolazione accogliente. È davvero un santuario ecologico per la manciata di turisti che visita quest'isola remota in Sao Tome e Princip. Fra le attività di cui ospiti e gente del posto possono godere spiagge rilassanti, esplorazioni nella giungla, immersioni, pesca, birdwatching e altre avventure. Sorprendentemente i giovani avventisti di Princip hanno deciso di saltare la loro vacanza estiva in questo paradiso per dedicarsi a servire gli abitanti di una regione dell'isola difficile da raggiungere. Il loro gruppo si chiama Missione Caleb e si è recato a Villa Belavista, il villaggio scelto per questo loro progetto. Per raggiungerlo non vi sono strade asfaltate e hanno dovuto attraversare un territorio pericoloso. Questi giovani ragazzi e ragazze desiderano possedere lo spirito impavido di Caleb, il personaggio biblico. Ecco perché hanno scelto questo nome. Quando i Caleb hanno visitato per la prima volta il villaggio hanno trovato molti bisognosi da aiutare. Così i ragazzi hanno iniziato a darsi da fare per liberare l'accesso alle case. Le ragazze hanno fatto lavori domestici e pulito i marciapiedi. Il gruppo ha anche visitato i malati portando speranza e generi alimentari. In questa zona remota alcuni abitanti faticano a sopravvivere da soli. I gesti di servizio, gentilezza e compassione del gruppo Caleb hanno mostrato alla gente l'amore di Cristo. Presto l'attenzione degli abitanti si è risvegliata, le persone hanno iniziato ad aprirsi. Pensavo che non ci fossero più soluzioni per me. Dopo aver perso mio figlio pensavo di dover morire. Quando sono venuti i Caleb il pastore ci ha invitato ad andare in chiesa. Quindi abbiamo accettato Gesù, siamo andati in chiesa in città e siamo stati battezzati. I Caleb non avrebbero potuto immaginare come Dio avrebbe benedetto i loro sforzi. In seguito alla loro scelta di dedicare la loro estate non a vacanze paradisiache ma in un luogo in difficoltà, Dio ha potuto raggiungere gli abitanti di Vila Belavista che hanno chiesto di studiare la Bibbia o hanno frequentato degli incontri nel villaggio. Oggi la congregazione principale vuole costruire una nuova chiesa in questo villaggio perché molti hanno accettato Gesù. Ogni estate migliaia di ragazzi di missione Caleb accettano la sfida di mostrare compassione e servire con creatività in tutto il mondo. Molte volte l'obiettivo è stabilire nuovi gruppi di credenti in aree nuove. Dio si serve dei giovani di Sao, Tome e Princip e in tutto il mondo. Come può servirsi di te?